Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo video del canale. Oggi purtroppo per una serie di sfortunati eventi siamo tornati al vecchio setup. Io spero che la qualità audio e video siano comunque almeno accettabili. Visto che oggi vi riporto uno dei mazzi che storicamente sono più apprezzati sul canale. Ovvero vi riporto Earth Machine. Earth Machine è una versione aggiornata che è semplicemente diversa. Non è né migliore né peggiore rispetto alla precedente. È solamente diversa in attesa che escano i Terions e che il mazzo guadagni una negazione sul terreno e che possa finalmente entrare nell'arena dei mazzi veramente competitivi. Questa versione è molto più stabile, molto più diciamo lineare rispetto a quella precedente. Il game plan è molto più chiaro, riesce a fare tranquillamente un rank 10 tutti i turni e in più gioca tranquillamente sotto Floodgate, differentemente alla versione precedente. Ora, questa versione quindi gioca molto più pesante sul comparto Mac. E niente, bando alle ciance, ciance alle bande e partiamo subito con la lista. Allora, partiamo subito con il 3x di Mac Fusoliera e la monocopia di Mac Rilascio Scorta. No, un claspare, va bene, non mi ricordo com'è in italiano, non importa. Allora, Mac Fusoliera su Normal ci aggiunge un mostro Mac dal deck alla mano. Questo è tutto quello che ci interessa del suo effetto e il mostro che ci andiamo a dare è un claspare. Un claspare quando viene addato alla mano, eccetto per pescata, quindi se viene addato dal deck o dal cimitero alla mano, si speciala e su Normal o Special va a fare Foolish di monstro di archetipo. Quindi manda un Mac dal deck al cimitero. Questi due sono degli starter ottimi. Quanto va bene, semplicemente Normal, Effetto, Add, Effetto Special, Mando, subito rango 4, into Gear Gigantex e abbiamo già un'altra data. Poi, classico reparto macchina, due fortezza e un cittadella, e andiamo ad aggiungere anche la monocopia di Ruinforce, che è la nuova aggiunta uscita in Burst of Destiny, che dà una spinta aggiuntiva a questo mazzo. Ruinforce si evoca dal cimitero, andando a bannare mostri macchina con livello totale pari o superiore a 12 e, quando viene distrutta o lascia il terreno, va a specialare mostri macchina banditi fino a un massimo di 3, il cui totale di livelli è 12 o meno. Quindi se andiamo a bandire 3 livelli e 4, li rispecialiamo tutti e 3 tranquillamente. In realtà poi andremo a bannare anche altra roba, non è che per forza dobbiamo bannare dei Mac, però questo è per dire. In più va a fare una negazione di effetto durante la battle, praticamente se durante la battle il nostro avversario va ad attivare un qualsiasi effetto, noi lo possiamo negare andando a pagare metà dei life points e se lo nega andiamo a dimezzare i life points dell'avversario. Su un body da 4.600 non è per niente male, contando che sotto skill drain o sotto floodgate, se ci fanno lancea, per esempio, più che lancea falce, scusate perché sotto lancea è difficilissimo giocare, sotto falce ne possiamo tranquillamente fare OTK grazie a Ruinforce Cittadella e agli altri grandi amici del comparto Mac. Quindi questo è quello che ci permette di giocare attraverso i floodgate. Poi abbiamo comunque un comparto infinitrack molto più compatto, abbiamo due mititrice, un bulldozer brutale, uno scavatunnel e uno scavatrincee. Andiamo a levare sostanzialmente quelli che sono i brick, sapete perfettamente che se peschiamo troppi brutaldozer, con troppi brutaldozer in mano siamo a funghi, mititrice ne giochiamo giusto due perché è super searchabile, e in questo modo abbiamo sì tutta la combo, gli extender e le varie ricorsioni che avevamo anche prima, perdiamo un attimino nel grind game perché giocando solamente uno scavatrincee, un brutaldozer, eccetera, rischiamo di finire le risorse molto prima, ma in questo modo siamo molto più consistenti e abbiamo meno possibilità di brick quando andiamo a pescare le prime cinque. Passiamo infine al comparto treni, vabbè classico, un bullet train, un derry crane e questa volta un night express night monocopia che è un 3000 che su normal va a zero di attacco e difesa, che ci serve solamente come altro starter nel caso proprio veramente siamo a mattonare e riusciamo ad addarci il brutaldozer, quantomeno abbiamo una normal e che possiamo tributare per specialare brutaldozer e fare la classica combo. E ovviamente, ultima ma non meno importante, il vero mattone del mazzo, scatola in granaggio antico, anche se in realtà giocandolo ho scoperto che il vero mattone è un class par e non in granaggio antico, ma comunque sono due mattoncini che, vabbè, giochiamo a 40, quindi può succedere che li troviamo, ma diciamo che anche trovandoli non è proprio completamente persa la situazione. Allora, passiamo alle spell, il comparto mech sono tre redeployment e una superguida, redeployment è one card combo, una carta e mezza combo, diciamo. Superguida mech ne giochiamo solo una perché appunto è molto più searchabile e puntiamo meno a fare back row larga, diciamo, in questa versione del mazzo. Giochiamo molti più floodgate e molto di più sul fare un rango 10 nel nostro turno prima di passare. Poi, per il resto, comparto infini cingoli, due heavy forward, solo due perché, comunque dicevo appunto, che mi editrice è super searchabile, non ci serve più di tanto a darci infini track in questa versione. la carta che veramente fa sbocciare il mazzo, tre perdi, orario urgente, questa la andiamo a tirare sempre anche nel turno dell'avversario. Nel nostro turno vogliamo fare molto di più la combo di mandarla al cimitero o dal terreno per darci un rango 10, un livello 10 del mazzo. Non solo, ma non è l'unica spell training che abbiamo, abbiamo anche il 2x di piattaforma di scambio rotante. Per chi non sapesse cosa fa questa carta, è la terreno che giocavo nella vecchissima versione del treno TK, ci interessa solamente il secondo effetto. possiamo mandare una carta dalla mano al cimitero e aggiungere un mostro terra macchina di livello 10 dal deck alla mano. Diciamo che l'altro effetto che fa è che se uno più mostro di terra di livello 10 vengono evocare di normal o special sul terreno, possiamo andare a evocare specialmente un mostro macchina terra di livello 4 con attacco di 1.800 o superiore dal deck. E se lo facciamo diventa di livello 10 ma l'avversario non subisce danni da combattimento per il resto del turno. Quindi questo non lo vogliamo fare mai, non lo facevo mai neanche prima, è solo una cosa molto molto di nicchia se per sbaglio partiamo per prima con una mano brutta, ma non lo vogliamo mai fare, sostanzialmente. Poi, comparto difensivo, abbiamo due pair di Ogre, due pair di Lancea e due pair di Ash Blossom e Mono Spolverino. Non abbiamo tantissimi slot, ho deciso di giocare quante più Entrape possibili e che facciano il più male possibile all'avversario. Sono ovviamente, vabbè, Mono Spolverino era la quarantesima carta, potevamo giocare qualsiasi altra cosa, ho deciso di mettere Spolverino perché le Back Row ci sono sempre nel meta, girano sempre, Ash perché è quella più flessibile e versatile, Ogre per i vari comparti Brave e Lancea perché secondo me è l'Entrape che fa più male a più mazzi possibile. Poi andiamo a vedere il comparto Floodgate perché in questa versione possiamo permetterci di giocare abbastanza Floodgate, due Godzen e tre Skill Drain. Questo Floodgate è enorme, lo so, ho sempre parlato male di Skill Drain, ho sempre detto che è un cancro, sono tuttora convinto che sia un cancro, ma in questo formato dove purtroppo hanno fatto uscire un casino di engine veramente rotti, veramente sbagliati che permettono dei deck building veramente, boh, non so come definirli, meglio saprei come definirli ma poi mi bannano, tre Skill Drain per forza per fermare determinate situazioni serve. Finita la lista, vi farò vedere la nuova combo, cioè tutte le combo che ci sono nella vecchia versione, nell'altro video che ho sul canale sono sempre tutte valide, tranne ovviamente lo starter di Metal Cruncher, perché non giochiamo più Metal Cruncher, semplicemente. Andiamo a vedere rapidissimamente l'extra, abbiamo Mono Gear Gigantex, Mono Sputafiumi, Mono Spezza Terra, questo è il comparto Addino più Infinitrack, rango 9 giochiamo Enter Blatnir, e solo Enter Blatnir, poi numero 81 Gustav Max e Juggernaut Libe per i nostri rango 10, e ovviamente ultimo ma non meno importante di Xyz, giochiamo ovviamente Mono Coppia di Zeus, che è sempre straforte. Devo dire che comunque Enter Blatnir lo tiriamo parecchio durante la combo. Poi, per i Link, abbiamo ovviamente 3 per di Goli e Infini Cingoli, Mono Ballista, Mono Congenio di Platino, e 2 Nocche Rabbiose Doppia Testa. Volendo, ho testato con una solo, sono ancora poco convinto a tenerne solo uno, e come al posto della seconda coppia giocarei Clifford Genius, che è molto molto forte e ci sta tantissimo, ma sento la mancanza del secondo doppia testa. Forse è colpa mia che sono abituato a giocarne con due, quindi a volte overextendo, ma nel caso sappiate che Clifford Genius è un'ottima sostituzione nel caso vogliate provare una versione un po' diversa. E questo era tutto per questa versione del mazzo. vediamo un attimo le combo. Dunque, vediamo un attimo questa famigerata combo da una carta e mezza con il re di spiegamento Mech. In mano abbiamo una carta qualsiasi, in questo caso Cavaliere Spesso Notturno. Andiamo ad attivare l'effetto di spiegamento Mech, scartiamo una carta, e ci andiamo ad aggiungere alla mano, quindi, un claspare e fusoliera. A questo punto un claspare attiva il suo effetto, si va a specialare e ci va a mandare al cimitero, quindi un'ex cittadella. Ok. Facciamo normal di fusoliera, fusoliera ci va ad aggiungere fortezza. abbiamo due mostre di livello 4 macchina, possiamo fare X-Ease in Gear Gigantex. Attiviamo l'effetto, stacchiamo un materiale, e andiamo ad aggiungere un mostro macchina di livello 4 inferiore, e il nostro mostro macchina sarà metitrice in finici cingoli. Andiamo a evocare fortezza, scartando fortezza in metitrice. e a questo punto andiamo a fare Link 2 in Ballista, in granaggio antico. Attiviamo l'effetto di Ballista, Ballista ovviamente ci aggiunge Scatola, in granaggio antico, e Scatola si attiverà l'effetto per aggiungere Scavatrincee. andiamo a scartare loro due per rebornare fortezza. Attiviamo l'effetto di Scavatrincee per rebornare metitrice. Metitrice triggera e ci va ad aggiungere quindi Brutal Dozer. Attiviamo l'effetto di mititrice rendendo entrambi livello 7 e livello 9 non so più contare. Andiamo a evocare Enter Blatnir. Attiviamo l'effetto di Enter Blatnir staccando qualsiasi cosa in realtà per andare a bannare una carta dalla mano dell'avversario. Attiviamo l'effetto quindi a questo punto di Brutal Dozer tributando Ballista. Lo evochiamo Special. Lui andrà a evocare Special Scavatunnel. andiamo a sovrapporre per fare Sputafiumi. Sputafiumi attiva l'effetto di andare a prenderci un extender di livello 10 a questo punto quindi ci andiamo a prendere Trenopallottola. Cominciamo la solita danza dei link quindi linkiamo in Golia tributiamo Golia per rievocare Sputafiumi ritributiamo Sputafiumi per andare a evocare un altro Golia Link 2 ci andiamo a evocare Nocche Rabbiose abbiamo solo macchina terra possiamo specialare Trenopallottola a questo punto attiviamo l'effetto di Nocche Rabbiose oppure no aspettiamo possiamo aspettare adesso diamo una bella mescolata al mazzo ovviamente era tutto in ordine quindi pescheremo un po' bayasato ma chi se ne frega per darvi un'idea possiamo andare ad attivare ovviamente a questo punto lo sapete perfettamente l'effetto di scavatrincee cosa rimescoliamo andiamo sicuramente a rimescolare i Golia in fini cingoli andiamo a rimescolare l'ingranaggio gigante e volendo anche ballista e scatola in modo da poter rifare la stessa cosa dopo se ci serve avere un più uno in mano e se ovviamente peschiamo la trappola dei Mac andiamo a rimescolare anche le due bandite quindi rimescoliamo questi e andiamo a pescare due va bene non ce ne frega niente solo per dire che così possiamo pescare altra roba andiamo a specialare treno pallottola tributiamo nocche rabbiose per specialare cittadella o sì cittadella perché quella era una carta palsiasi quindi a questo punto abbiamo subito il rango 10 in super dora ovviamente se avevamo questo potevamo aggiungerci derry crane e fare la stessa cosa ma avere derry crane sotto lo sapete insomma dai non siete stupidi stacchiamo ricordiamoci di staccare prima di fine turno treno pallottola e in end ci andiamo a dare brutal dozer dal cimitero alla mano e questo è quanto sostanzialmente abbiamo fatto più tre e abbiamo un rango 10 sul terreno con il cimitero bello ciccioso per fare cose prossimamente se la carta che abbiamo scartato fosse stata una carta qualsiasi tra fortezza cittadella e un attimo sono molto organizzato e ruinforce che adesso vi recupero che so che gioco nel mazzo ve l'ho fatto vedere prima solo che ho mescolato giustamente eccolo qua ok se fosse stata una di quelle tre noi potevamo avere molto più facilmente il rango 10 tenendoci tranquillamente nocche rabbiose sul terreno perché potevamo avere ruinforce da rispecialare andando a bannare dal cimitero altra cosa ovviamente vabbè in realtà sono effetti abbastanza comprensibili una volta che avete capito la teoria che sta dietro al mazzo ok che a questo punto non è più solamente ciclare un sacco di risorse avere un sacco di carte in mano ma avere anche un ciccione invulnerabile sul terreno e interazioni nel turno dell'avversario come può essere cittadella o un floodgate da tirare in testa al momento giusto e niente questo era quanto per il mazzo io spero vi sia piaciuto è un mazzo molto complesso da gestire ma molto semplice ovviamente questa versione è molto più semplice la combo è molto più lineare gli effetti una volta ben letti e ben capiti sono molto gestibili ma è difficile gestire l'economia del mazzo serve un buon pilota per vincere con questo mazzo secondo me in tutte le versioni possibili questa versione secondo me è un filino più stabile rispetto all'altra al momento sta un filino sopra perché avere comunque un cistone immuno agli effetti sul terreno fa il suo fa il suo avere un Rai Geki nel turno dell'avversario fa il suo riuscire ad avere Entrap interruzioni floodgate e riuscire a giocare sotto Entrap interruzioni e floodgate fa molto il suo perché alla fine noi sotto skill drain possiamo attaccare tranquillamente con bullet drain possiamo tranquillamente attaccare con cavaliere spesso notturno che rimane un 3000 sotto skill drain perché ha gli effetti negati tutti gli effetti dal cimitero si attivano Ruinforce è comunque un 4006 OTK non è neanche così difficile in realtà niente ditemi le vostre so che questo mazzo vi interessa perché è il video sul canale che ha più visual in assoluto è la mia vecchia profile di Earth Machine e con questo io vi ringrazio davvero tanto delle visual che mi avete lasciato noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao